Presidente Favero, come vede la proposta del Ministro Salvini di reintrodurre una sorta di leva obbligatoria? Chiaramente dal nostro punto di vista in maniera certamente positiva. Lo abbiamo ribadito, voglio ricordare che proprio prima delle elezioni avevamo fatto una conferenza in cui avevamo invitato tutti i partiti a partecipare e proprio in quella occasione Salvini, dopo il nostro intervento, la nostra richiesta, non solo nostra, voglio ricordare anche delle associazioni d'arma del Fante e dei Bersaglieri, ha dato quella sua disponibilità e ha detto che loro erano favorevoli a reintroduzione di un servizio obbligatorio. Io credo che per l'Italia, per i nostri giovani, soprattutto per i giovani, sia qualcosa di estremamente opportuno se non necessario. Cosa significherebbe per i giovani? Significherebbe tornare a capire qualcosa di importante, soprattutto avere il concetto della identità che oggi manca, soprattutto tornare a capire qualcosa di cosa vuol dire il rapporto all'interno di una realtà come la nostra e quello che oggi manca perché da troppi anni, per esempio, non si fa neanche più educazione civica nelle scuole. Vuol dire anche, soprattutto, far capire ai giovani che prima di campare diritti ci vogliono i doveri. Come la vedrebbe questa nuova leva? Si è fatta un'idea di come potrebbe essere progettata? Noi abbiamo già proposto, ovviamente quando abbiamo fatto questa richiesta, abbiamo già elaborato delle ipotesi che sono delle ipotesi che lasciano campo, ovviamente, anche alle forze politiche di poter poi decidere in maniera autonoma come farla. Quello che è fondamentale, secondo noi, è che sia essa per la parte che fa a supporto della realtà militare, quindi per le forze armate, sia essa la parte che va a supporto della realtà sociale che ne ha bisogno. Voglio ricordare solo l'ambiente, tanto per fare un esempio. Ecco, comunque la base per tutti deve essere un momento obbligatorio, un momento di stacco dalle realtà, diciamo, proprie, familiari e un momento in cui quello che è fondamentale per tutti nella prima fase è concepire qualcosa che porti a tutti i ragazzi la capacità di dialogare e per dialogare stare insieme. E ne è un esempio quello che fa la sezione Montegrappa nella sei giorni con i giovani è quello di condividere insieme, di stare insieme. Oggi i ragazzi hanno un grande difetto, sono bravissimi, però quello di guardare troppo i social, i telefonini, quello non vuol dire stare insieme. Stare insieme vuol dire guardare in faccia a chi ti è vicino, guardarlo sugli occhi, qualche volta anche discutere, però saper condividere insieme. C'è chi ha lanciato anche l'idea di non far imbracciare necessariamente un'arma a questi ragazzi, ma far prendere in mano un rastrello, un badile e avvicinarsi anche a tutto quello che è il discorso della protezione civile per far crescere un vero senso civico in questi giovani. Sì, direi che è una delle ipotesi. Nel senso che non necessariamente, come prevede peraltro anche l'attuale normativa, non necessariamente tutti siano obbligati comunque a imbracciare le armi. Voglio però ricordare una cosa, noi siamo d'accordo sul fatto che la parte di difesa debba essere fatta da volontari, questo deve essere chiaro, quindi l'organizzazione delle forze armate in termini volontaristici è fondamentale, ma dall'altro lato è anche fondamentale che tutti i giovani diano un proprio contributo per la crescita di questa nostra Italia, di questa nostra patria, all'interno anche di una realtà più grande che si chiama Europa. E io credo che sia importante anche per i giovani di oggi, per esempio, non dico usare le armi, ma conoscerle, sapere cosa sono, perché altrimenti rischiano di trovarsi in mano qualcosa che non conoscono e anche questo, quello del conoscere, io credo sia una cosa importante, una cosa fondamentale per tutti. Ecco, voglio solo per concludere ricordare una cosa, l'attuale Costituzione, quella attuale, all'articolo 52, prevede ancora il servizio obbligatorio a difesa della patria. Noi chiediamo che questo articolo, come tutti gli altri, venga applicato fino in fondo.